Salusa 30 novembre 2011. Continuate ad andare avanti imperteriti, senza lasciarvi distrarre dal cammino che avete scelto. Soltanto voi sapete quel che veramente vi occorre per progredire speditamente, e quale è esattamente il vostro obiettivo. Normalmente, preferite avanzare a vostro ritmo e, di certo, non vi è alcuna pressione per chi avvenga altrimenti. Tuttavia, è necessario rendersi conto, che l'ascensione è ormai vicina, e che, se desiderate cogliere quest'opportunità per uscire dalla terza dimensione, dovete sapere cosa vi conviene fare. Come vi abbiamo spesso ripetuto, quel che conta è l'intenzione perché, non appena è emessa un'energia in tal senso, essa attrae energie di pari natura, che rafforzano la vostra, aprendovi la strada verso l'ascensione. Si tratta di elevare le vostre vibrazioni, portando più luce nella vostra vita, e condividerla tramite pensieri e azioni positive. Non preoccupatevi se il vostro percorso differisce da quello di altri, perché numerose sono le strade per arrivare all'ascensione. Ci sono, infatti, linee temporali, che coprono ogni immaginabile combinazione di eventualità. Se avete liberamente scelto, non potete sbagliarvi, altrimenti il libero arbitrio non avrebbe senso. Che lo comprendiate o no, voi siete gli unici creatori del vostro futuro e questo è il motivo per cui vi si ripete sempre che siete voi stessi gli artefici della presente realtà. Questo non significa che sia impossibile cambiarla, perché è proprio quello che avete fatto, puntando i piedi e rifiutando di inchinarvi ancora al volere degli oscuri. E' vero, che noi e moltissimi altri esseri di luce vi stiamo aiutando, ma possiamo farlo solo dopo che voi stessi avete fatto il primo passo. Voi indicate la strada e noi la evidenziamo con cartelli indicatori, affinché non perdiate il senso della direzione. I tempi, che state attraversando sono meravigliosi, perché avete manifestato molto chiaramente di non voler più avere a che fare con un modo di ragionare basato su guerra e ostilità. State chiedendo con forza la pace mondiale, se i vostri governanti attuali non ne sono capaci, non siete disposti ad attendere che si dimettano, ma insistete affinché nuovi dirigenti in grado di farlo, li sostituiscano. Carissimi, governanti del genere sono già tra voi, non appena noi avremo rimosso gli ostacoli e le opposizioni nei loro confronti, essi vi guideranno verso un'era di pace e felicità, che non solo desiderate, ma anche meritate. Adesso nel mondo c'è una grande maggioranza di gente, che prega per la pace, non a qualsiasi prezzo, ma tramite equi negoziati. Tali preghiere sono state esaudite dagli esseri di luce dei regni superiori, che rafforzano il nostro lavoro, dandoci la possibilità di aiutarvi a raggiungere una pace duratura sulla terra. Ci sono molte cose da portare a termine prima di arrivare alla fine del 2012, e in questo avremo un grande ruolo. Siete rapidamente usciti dallo scenario tessuto dagli Illuminati, quello che vi tenuto sotto il loro controllo, essi, infatti, hanno creato ogni genere di situazioni per rendervi sempre più dipendenti da loro. In tal modo, hanno fatto tutto quanto il loro potere per impedirvi di entrare nella New Age, che vi avrebbe reso più indipendenti. Non di meno, il loro potere è ora grandemente ridotto e così continuerà fino a quando non li avremo scacciati dalle posizioni di autorità e influenza. Già molte delle loro basi segrete sono state smantellate e rese permanentemente inservibili. Tutto sta andando per il meglio, anche se non ve ne rendete conto. È un compito gigantesco arrivare al punto in cui poter consentire ai nostri alleati di assumere il potere, ma non temete perché siamo ormai molto vicini a porre termine alle interferenze nella vostra vita. Naturalmente, la dualità ha offerto pari opportunità di dominio tanto alla luce quanto alle tenebre e, fino a recente, le tenebre furono la forza dominante. Adesso le cose sono cambiate, e tramite i nostri alleati stiamo usando il potere della luce per liberare la Terra dalle energie negative ancora restanti. La luce può affievolirsi, ma non può mai essere sconfitta dall'oscurità, e la verità è che la vittoria aspetta sempre alla luce. Non prendete le prossime attività di Madre Terra come eventi negativi, perché la pulizia in cui è impegnata comporta una serie di operazioni positive intese a ristrutturarla. In occasione di eruzioni o movimenti terrestri, alcune anime partiranno, ma questo per loro scelta? Il mondo è dominato ora dalla crisi finanziaria, ma noi ne vediamo i risultati come il mezzo per liberarvi dagli Illuminati, che non soltanto hanno monopolizzato le politiche monetarie, ma le hanno anche usate a loro vantaggio. Alcuni dei più gravi crimini contro l'umanità sono stati commessi in questo settore. Siete stati rapinati, direttamente o indirettamente, dei vostri soldi, che adesso riempiono le tasche di coloro che si sono posti al vertice della piramide. Le ricchezze del mondo saranno recuperate ed equamente distribuite, e tutti potranno finalmente godere di un'esistenza soddisfacente, mai più incupita da povertà o schiavitù. Certamente, avete notato il numero crescente di fonti, che pubblicano messaggi concernenti il prossimo futuro. Siate selettivi e lasciatevi guidare dall'intuito, rimanendo saldi nelle vostre convinzioni, fino a quando non avrete un buon motivo per cambiarle. Come già detto, i sentieri, che portano all'ascensione sono molteplici, ma ne esistono anche alcuni che si limitano a guidare le anime nella presente dimensione, poiché esse non desiderano fare altrimenti. Lasciate che seguano il sentiero prescelto, che darà loro esattamente quanto necessario per progredire. Non spetta nessuno convincerle del contrario, ma siate certi che, nel tempo trascorso sulla Terra, avranno imparato molte lezioni utili, che serviranno loro in futuro. Se si tratta di anime cui siete ora affettivamente legati, potreste desiderare di continuare tale legame servendo loro da guide. Quando talvolta ringraziate la vostra buona stella per quanto di bello la vita vi ha dato, non potete immaginare quanto siete vicini alla verità. Ammirando il cielo notturno, vedete le stelle di innumerevoli sistemi solari. Ognuna di esse è un sole in cui risiedono elevatissimi esseri di luce, che inviano flussi di luce in tutto il vostro universo. Potete considerarli degli dei che, a loro volta, sono collegati al grande sole centrale, e fungono da canali per spargere ovunque le energie, innalzano in tal modo le vibrazioni inferiori. Si tratta di un processo continuo, che gradualmente mette in grado ogni forma di vita di ritornare alla sorgente. Ricordate che tutto è uno e che ogni cosa esiste nell'energia del tutto. Io sono il Siriano Salusa e desidero trasmettervi le benedizioni e l'amore di tutte le civiltà, che fanno parte della Federazione Galattica. Grazie, Salusa. My Quincy Traduzione Costanza 2003